Sono almeno 12 morti nell'attacco missilistico notturno a Zaporizia. Stando ai media locali ci sono anche una cinquentina di feriti, tra questi diversi bambini. 12 missili che hanno colpito la città, stando ai primi rapporti militari. La maggior parte ha colpito condomini residenziali e case private. Duro il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dice i responsabili dovranno rispondere delle proprie azioni. Anche sabato la città aveva subito un attacco aereo che aveva fatto diversi morti. I russi controllano la centrale nucleare di Zaporizia da marzo. L'impianto ha un valore strategico enorme e rappresenta una merce di scambio notevole nel caso si arrivasse a un tavolo negoziale. Grazie.